Gli tecnici di come abbiamo fatto, le nostre stime, rappresentatività dei campioni, ne possiamo sicuramente parlare e qualcosa già si trova nella versione attuale del nostro lavoro. Allora, cosa non abbiamo trattato nel nostro lavoro? Non abbiamo mai parlato nella presentazione della dottoressa Bentivogli e molto molto poco nel nostro lavoro di scopo mutualistico che invece è il vostro DNA, anzi la caratteristica principale del vostro DNA. Perché non l'abbiamo fatto? Perché non l'abbiamo visto? No, è stata una scelta, una scelta anche che abbiamo discusso molte molte volte, io e Chiara, e di fatto è stata una scelta narrativa che era volta a stressare, veramente stressare al più possibile il confronto tra le cooperative e quelle che noi chiamiamo scherzosamente le imprese K. Non soltanto perché le imprese K sono il controaltare, il capitalismo tradizionale, il capitalismo del salotto buono che in realtà in Italia non ha mai veramente preso piede, ma per evidenziare le sfide di quel mercato che però sono anche le sfide dei vostri mercati. Sfide che secondo noi sono appunto tanto più rilevanti proprio per quell'elemento dimensionale che non è semplicemente un vezzo. Essere un'impresa grande oggi significa avere gli strumenti per affrontare le sfide. Economia di scala, capacità di attivare risorse finanziarie, capacità di attrarre risorse umane. Cose che ad esempio, internazionalizzazione, tutte cose che ad esempio alle piccole imprese sono invece precluse o molto molto più difficoltose. E rispetto alla questione dimensione media, la questione dimensione media secondo me è ancora più rilevante non soltanto quando si dice che le cooperative sono più grandi, ma sono anche diventate più grandi. Cioè mentre il sistema produttivo italiano negli ultimi vent'anni si è frammentato, quello del mondo cooperativo si è espanso e questa controtendenza merita sicuramente un'attenzione. Ora, essere grandi significa anche essere complessi. Le sfide sono altrettanto complesse, quelle di un mercato che anch'esso è sempre più grande, sempre più globale e c'è lo scopo mutualistico. La domanda a cui noi non riusciamo a rispondere è questa, ma lo scopo mutualistico è un ulteriore elemento di complessità e in più? Io sinceramente devo dire che quando vi sento a volte mi sembra che la risposta sia sì, però a questa domanda dovete rispondere voi fondamentalmente, perché questo dal punto di vista concettuale e analitico, noi a questa domanda non potremmo che dare soltanto risposte abbastanza parziali, almeno questa è la mia sensazione. C'è anche da capire effettivamente che cosa voglia dire scopo mutualistico, perché in una visione forse anche un pochino più romantica, uno verrebbe da dire che scopo mutualistico può essere all'ottica di lungo periodo, può essere la possibilità, la voglia di accettare le sfide di cui questo paese ha bisogno. Ripeto, è una complessità in più? Mi sembrerebbe di poter dire di sì, e credo che quindi la sfida a cui siete chiamati a rispondere forse sia doppia. Credo anche che in un certo qual modo voi ne siate anche consapevoli, e questi incontri che abbiamo avuto prima alla Lega di Bologna e oggi, mi conferma quest'ipotesi, e mi conferma anche una cosa, cioè che il nostro studio non aveva altro che l'obiettivo originario, e credo che in un certo qual modo la presentazione di oggi lo riconfermi, e cioè che sia stato il nostro un tentativo di razionalizzare questa grande realtà complessa che in realtà voi siete, e cercare di descrivere in modo semplice qual è il vostro posizionamento oggi. Nel far questo speriamo di averlo fatto con l'onestà intellettuale più elevata che potevamo, e dobbiamo però anche sottolineare che per questo vi vorremmo anche ringraziare, perché comunque sia per noi tendenzialmente di impostazione, anzi parlo per me perché la dottoressa Ventivagli non vuole, neoclassica è stata una sfida, ed è stata una sfida divertente studiare questo oggetto strano che sono le cooperative, quindi grazie per questa opportunità. Basta qua con voi. Grazie. 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 Grazie.